L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è un ente sanitario pubblico regolato da leggi nazionali e regionali, che si occupa di salute animale e sicurezza alimentare. È formato da medici veterinari, biologi, chimici, biotecnologi, tecnici di laboratorio e personale amministrativo. Le attività che svolge sono servizi diagnostici sugli animali, controlli analitici sugli alimenti, piani di sorveglianza e controllo delle malattie, studi e ricerche scientifiche, formazione per il settore veterinario e alimentare, comunicazione scientifica, promozione del benessere animale. L'Istituto è competente per la Regione del Veneto, la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, le province autonome di Trento e Bolzano. Fa parte di una rete di 10 istituti zooprofilattici sperimentali distribuiti su tutto il territorio italiano. La sede centrale si trova a Legnaro, in provincia di Padova. Ha inoltre 10 laboratori territoriali distribuiti nelle province del territorio di competenza. L'Istituto è uno strumento tecnico-scientifico di riferimento per il Ministero della Salute, le regioni e le province autonome, le aziende sanitarie locali, i veterinari liberi professionisti, gli operatori del settore zootecnico, le aziende alimentari, i cittadini. Collabora inoltre con organismi internazionali come la Commissione Europea, l'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura. Oggi l'interazione uomo-animale è sempre più stretta. L'obiettivo dell'Istituto non è solo prevenire le malattie trasmesse dagli animali all'uomo, ma costruire un mondo in cui uomo e animali sono riuniti in un'unica salute.